Prende la tripla, pur se ne ha già segnata una in campionato con Alba, Calabrese! Calabrese, Calabrese, 3, 2, 1, mamma è un desiderio, questo canetto, Calabrese del traffico, si prende palla e la mette nel cesto. Carico per Calabrese che entra, mamma mia! Cosa succede? Va rapido fuori per Calabrese, la tripla di Calabrese! 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 Non so come, ma ha riuscito a recuperare palla! Poi, Pietruzzi fuori per Calabrese, si mette la mano, nei denti! Calabrese! Bravissima! Grazie! 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 Grazie!